come vi dicevo in questa seconda parte della lezione parliamo del ciclo di vita di React perché è quel pezzettino che ci serve per far sì come dire che poi riusciamo a gestire correttamente in React la fetch perché ricordiamo sempre che React diciamola così, magari non è proprio preciso ma fa delle cose quando vuole lui quando gli serve farle quindi rirenderizza lo stato, rirenderizza lo props quando cambia fa dei controlli, eccetera rispetto a quello che noi scriviamo quindi nei momenti in cui andiamo a iniettare in React delle chiamate asincrone HTTP ovviamente dobbiamo tenere presente quando e che cosa succede quando riceviamo la risposta dalla fetch per esempio quando la facciamo la fetch? chi la fa la fetch? e quando è opportuno come facciamo appunto a fare tutte queste operazioni? quindi dobbiamo un attimino parlare del ciclo di vita quindi della vita di React, di un'applicazione React prima e dopo il return che restituisce del codice JSX allora ci sono tre momenti principali eventi principali nel ciclo di vita di React sicuramente l'azione render è quella più importante per un componente un componente ha senso di che esista se renderizza qualcosa se no non è un componente veramente doc quindi quella è sicuramente la parte più importante quella che abbiamo fatto finora però ci sono altri tre eventi che è utile capire per capire un po' come funziona la nostra applicazione React perché facciamo certe cose e un po' come appunto andiamo a iniettare adesso il fetch per fare un esempio collegato a questa parte ricorderete anche nel vostro laboratorio che quando avete fatto il form di modifica di un task l'unico modo che in quel momento avevamo per resettare lo stato del form di edit quindi tutte le volte che aprivamo il form di edit noi volevamo vedere le informazioni sul task allora in quel laboratorio l'unico modo che avevate per farlo era distruggere e ricreare il componente quindi quando chiudevo il modale bisognava distruggere il componente del form rimpiazzarlo con qualcos'altro in modo che poi quando riaprivo il modale bisognava ricreare il modale quindi non bastava nasconderlo e mostrarlo come avete fatto fino all'aggiunta di un nuovo task ma dovete proprio distruggerlo per resettare lo stato quello era un modo, un modo comune in React però esistono altri modi quello che per esempio vediamo oggi questo use effect può anche essere usato in quel momento in quel caso e ci sono tre eventi principali nella vita di un'applicazione React c'è il mounting, il montaggio quando il componente viene creato e viene inserito nel DOM poi c'è il momento di aggiornamento quando a causa del cambiamento di stato il cambiamento di props il componente viene rirenderizzato quindi tipicamente c'è il montaggio avviene all'apertura dell'applicazione React o quantomeno la prima volta che un componente specifico viene renderizzato la prima volta l'aggiornamento può capitare n volte ogni volta che questo componente che è già stato montato è già presente nel DOM nel browser viene aggiornato perché cambia le props perché cambia lo stato quant'altro e poi ovviamente c'è la fase di unmounting cioè quando il componente viene rimosso dal DOM perché per esempio viene distrutto quindi quando noi dicevamo prima creavamo il form o distruggevamo il form quello che facevamo in realtà era montare il form questa fase di mounting React montava il form nel browser lo traduceva nel DOM e poi quando noi lo distruggevamo React faceva l'unmounting del componente e quindi in un certo senso resettavamo il componente perché completevamo completamente il suo ciclo di vita ora tutto questo insieme agli hook come si colloca e quali fasi ci sono ci sono due fasi in React c'è la fase di render in questi tre momenti mounting, updating e unmounting e la fase di commit allora quando viene fatto il mounting cosa succede? si parte dalla fase di render e la fase di render è quella che prende il vostro componente il vostro componente il function component la vostra funzione e fino al return tutto quello che succede nel return è nella fase di render quindi la preparazione del virtual DOM diciamo così in React poi c'è la fase di commit la fase di commit commit è quella che React fa da sola in automatico quando voi fate il return un qualcosa quindi lui prende questo gsx lo mette lo converte come deve lo mette nel virtual DOM e poi a un certo punto calcola le modifiche col DOM e dice al DOM adesso visualizza questo componente che è un bottone fatto così in html eccetera quindi il browser sa poi come visualizzare le sue cose questa è la fase di commit allora in fase di montaggio questo commit ovviamente arriva qui noi siamo sempre arrivati praticamente qui creavamo il componente e veniva visualizzato quando il componente viene aggiornato quindi quando cambiano le props o quando cambia lo stato quindi quando usavamo useState o meglio quando usavamo setxxx dove xxxx è il nome dello specifico stato che andiamo ad aggiornarlo ogni volta che chiamavamo setState noi aggiornavamo il componente il componente si renderizzava e quindi andava nella fase di updating dove il setState quello che ne comportava era nella fase di rendering e poi quando bisognava aggiornare il DOM ovviamente andavamo nella fase di commit e l'unmounting è più facile perché smonta tutto quindi non ha operazioni fortemente collegate a loro però c'è una fase cosa succede quando per esempio abbiamo la fetch ma non solo quando lavoriamo con qualcosa che non parte dal rendering ma parte non è dipendente dal rendering del componente non stiamo facendo un return di qualcosa non stiamo manipolando lo stato non stiamo cambiando la props cliccando sugli eventi nel browser ma succede qualcosa che non dipende dal rendering del componente beh questo qualcosa avviene come la fetch avviene nella fase di commit perché siamo già nel browser stiamo già nel DOM la fetch è un API del browser quindi non è un API di React è un API nel browser quindi stiamo lavorando lì a quel livello che siamo in quest'ultimo passaggio verde qui siamo in questa fase di commit e questa fase di commit ovviamente potrebbe avere degli effetti per esempio potrebbe dover cambiare lo stato e allora la fase di commit è qui lo use effect che è quello che vediamo adesso è qui ma il cambiamento dello stato avviene qui e scatena un re-rendering che poi aggiorna il DOM quindi ha degli effetti questo per darvi la panoramica di dove siamo e questo use effect che andiamo a vedere ovviamente vale per la fase di mounting si può applicare nella fase di mounting nella fase di updating nella fase di unmounting come vi dicevo è un metodo è un hook molto semplice perché ha due parametri però dato che si può usare praticamente in ogni fase può anche essere abbastanza complicato da utilizzare correttamente ha molte variabilità il use effect e tutte le operazioni che vengono fatte lì agiscono su quello che si chiamano side effect per quello che si chiama use effect cioè un componente react funzionale utilizza le props e lo stato per calcolare quello che poi dovrà essere visualizzato in fase utilizzato in fase di rendering e visualizzato in fase di commit o aggiornato in fase di commit attraverso lo stato e abbiamo anche visto use context use context ovviamente funziona allo stesso modo in fase di rendering quindi praticamente use effects sostituisce component amount did update amount sì sì praticamente sì Mario sostituisce tutte quelle cose dei class components che noi non abbiamo fatto e quindi di conseguenza non ne parliamo comunque use effects parla a che fare con questi side effects cosa sono i side effects in react abbiamo due tipi di effetti abbiamo quelli che sono propri di react quindi non i side effects i effects non chiamavano neanche effects sono le cose normali infatti in react finora quindi l'utilizzo di props e state per aggiornare lo stato per aggiornare il proprio output per renderizzarsi correttamente e poi ci sono i side effects i side effects sono ogni calcolo ogni tipo di operazione che non ha come target il valore di output di quel componente la renderizzazione di quel componente quindi qualunque cosa che ha qualche effetto al di fuori dello scopo del componente della function component che viene eseguita e quali sono gli esempi di side effects beh sicuramente il fetch delle informazioni perché non ha un effetto diretto non riguarda come il componente viene renderizzato direttamente è un qualcosa che a un certo punto arriva e può fare delle cose ma anche un console.log è considerato un side effects e qui ce ne sono altri esempi e il rendering e la logica dei side effects sono indipendenti e per ora noi non ci siamo mai preoccupati dei side effects perché facevamo i componenti li renderizzavamo poi cambiavamo lo stato da degli eventi di React cliccavamo da qualche parte sottomettevamo un form eccetera e lui si riaggiornava e eravamo contenti così ma era sempre qualcosa che partiva dall'interno di React partiva da degli eventi di manipolazione di un form di un submit di un click da qualche parte quindi qualcosa gestito nella parte di rendering non era un qualcosa un console.log un timer che scattava a caso in un certo punto un fetch che a un certo punto tornava eccetera quindi il rendering dei componenti e i side effects sono indipendenti ed è sbagliato anche se in alcuni casi si può fare non vediamo una grossa differenza però è sbagliato per questo che hanno questo nome side effects che fa forse anche un po' preoccupare ma nonostante in alcuni casi potremmo farlo e non vedere un problema non accorgereci di un problema però è sbagliato fare qualunque operazione che è un side effects all'interno del corpo di un componente quindi all'interno di un componente quindi prima del rendering è sbagliato scrivere console.log perché console.log è un side effects è un qualcosa che non impatta direttamente il rendering di quel componente perché console.log stampa nella console non nel render del GSX non impatta il render del GSX e quindi per di più i side effects non devono essere messi nella fase di rendering quindi non impattano la fase di rendering e i side effects vengono eseguiti da React dopo il rendering e l'aggiornamento del DOM per cui vedete che qui abbiamo qualche complicazione perché se noi per esempio pensiamo alla fetch la fetch viene scatenata qui dopo quando le cose sono nel DOM già e bisogna in un certo senso tirare su le informazioni in modo che magari un componente venga montato un componente diverso venga montato un componente venga aggiornato quindi da qui sotto bisogna ritirare le informazioni in un certo senso sopra quando facciamo se noi facessimo un console.log nel componente a funzione questo console.log viene eseguito dopo che tutto il componente viene renderizzato pur non avendo un effetto distruttivo sull'applicazione è un qualcosa che non avviene qui non avviene quando il JSX si prepara è un qualcosa che avviene a runtime diciamo nel browser qui a questo punto a questo livello qui quantomeno in base a dove in quale fase siamo e ripeto nel caso del console.log non è un grosso problema nel senso che non ci distrugge l'applicazione React probabilmente funziona ma in caso di qualcosa di più complicato può essere invece problematico perché troviamo cose che non funzionano o dobbiamo usare trucchettini tipo distruggere un componente e ricrearlo per far sì che il componente si rirenderizzi in maniera corretta questo perché sono tutte cose che capitano dopo il rendering effettivo dopo che il browser ha già nel DOM le sue parti HTML quindi non andiamo a modificare in un certo senso un qualcosa che potrebbe succedere a livello di browser ma dobbiamo informare React che questo effetto collaterale questo side effects potrebbe avere un impatto su lui e questo modo di informarlo è questo hook che si chiama use effect essenzialmente quindi questo questo è un componente a funzione cosa fa è facile fa cose che abbiamo già visto crea una variabile con scritto hello props.name prendendo dal prop la proprietà name stampa console su schermo greetings il messaggio quindi questo e poi ritorna il messaggio vedete che questo e il rendering non sono imparentati questo log qui non ha nessun impatto sul rendering o viceversa sono totalmente indipendenti e nel ciclo di vita di React questo avviene prima perché questo viene prima inserito viene prima parsificato il JSX poi viene fatto il rendering poi viene fatto il commit del rendering nel DOM reale del browser e a quel punto viene eseguita questa riga che viene prima del return solo a quel punto ora ripeto questo nella pratica non ci porta errori non noteremmo probabilmente errori ho grossi problemi però quello che ci capiterebbe è che il side effect sarebbe eseguito quando React decide di fare o ogni volta che React decide di fare il rendering quindi potrebbe capitare una volta potremmo vedere questo console log una volta potremmo vederlo due volte potremmo non vederlo mai potremmo vederlo dopo un certo tempo proprio perché il programmatore non ha controllo del rendering dato che questa istruzione logicamente avviene dopo che questo return è stato inserito nel browser quindi non ci distrugge l'applicazione React un console.log però è qualcosa da stare attenti perché potremmo se volessimo aspettare un console.log potremmo vederlo nel momento sbagliato o vederlo molteplici volte a non capire perché e questo è il concetto di side effects qual è il modo giusto se vogliamo di fare questo console.log di gestirlo correttamente e di far sì che compaia in questo caso una volta sola quando il componente per esempio viene montato metterlo all'interno di su effects quindi tutti gli effetti tutti i side effects come il console.log come le fetch come quant'altro vengono chiamate invocate all'interno del look useEffect che può anche essere utilizzato molteplici volte non è un problema potete anche avere n useEffect all'interno di una funzione perché così look controlla la sua esecuzione a quel punto ritorniamo in un certo senso facciamo sì che questo console.log non sia più gestito interamente da browser che non sa come React fa le cose come React renderizza le cose perché è il DOM del browser ma lo stiamo ripassando a React dicendo guarda quando gestisci il rendering ricordati quando è finito che devi anche gestire queste altre linee di codice javascript che fanno cose che non impattano direttamente il rendering come la console.log e vedete la sintassi è abbastanza semplice useEffect ha una callback e poi ha un array che può esserci o può essere vuoto o può essere pieno la callback è quello che voglio eseguire nel caso dell'esempio di prima il console.log e questa array dice quando voglio eseguire quell'istruzione perché io posso voler eseguire un'istruzione in fase di mounting posso volerla eseguire ogni volta che aggiorno posso volerla eseguire in fase di unmounting posso volerla eseguire sempre posso volerla eseguire solo quando aggiorno lo stato X e non quando aggiorno lo stato Y voglio poterla eseguire nella fase di updating solo quando aggiorno una props e non un'altra eccetera 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 quindi come dicevo funzione semplice però molto molto flessibile perché appunto ci deve permettere di gestire tutti questi casi e questa gestione di tutti questi casi avviene soprattutto attraverso questo array delle dipendenze che dice appunto quando viene eseguita il codice all'interno della callback quindi la callback è una funzione di callback che contiene tutta la logica dei side effects e user effect la esegue tramite react dopo che react ha fatto il commit dei cambiamenti nello schermo del browser quindi dopo che tutto è dentro il DOM visualizzato dentro il DOM quindi alla fine quando il componente si è già renderizzato si è già visualizzato nel DOM l'utente poteva già cliccarci a quel punto applica tutti i side effects in maniera coerente a quello che deve fare e le dependency è quest'array che è opzionale e dipende come dicevo prima regolano quando la callback viene eseguita e come vi dicevo possono esserci tre casi in quest'array delle dependency l'array delle dependency non è fornita ergo i side effects all'interno della callback vengono eseguiti dopo tutti i rendering quindi sempre c'è un array vuoto i side effects vengono eseguiti solo dopo il rendering iniziale e i side effects l'array delle props ha l'array delle dependency ha all'interno dei valori di props o di stati che sono poi quelli che scatenano il rendering quindi è assolutamente importante mettere quelli se i side effects impattano questi valori qui e dipendono in questo caso i side effects vengono eseguiti solo quando una di queste valori cambia in più viene anche eseguito una volta in questo caso dopo il rendering iniziale quindi dopo la fase di mounting quindi in questo caso quando cambia questo qui questa prop quando cambia questo state allora questi effetti collaterali questi side effects vengono eseguiti in maniera automatica dopo il rendering il commit del rendering nel DOM tutti tutti quelli che sono indicati qui allora voi capite che nel caso della fetch se noi avessimo una fetch eseguita qui che va a cambiare uno stato useremmo per esempio questo se volessimo collegarlo al cambiamento di stato di più noi potremmo dire utilizzando questo che quando il nostro array dei corsi cambia faccio una fetch all'array scusate all'API degli esami in modo che ogni volta che ho corsi nuovi nel carico vado a chiedere se nuovi esami nel caso possono essere stati aggiunti o la possibilità appunto di aggiungerli per esempio quindi possiamo anche creare delle dipendenze tra una cosa e l'altra però tutto questo avviene dopo la fase di commit nel browser del DOM e qui c'è un esempio che racconta come funziona questo col console.log che è la cosa più facile e proviamo a farlo proviamo a copiarlo incollarlo nelle slide in realtà quindi in quella cartella esempi fatemi copiare questa function che dovrebbe comunque essere corretta e poi quella quindi questo proviamo a metterlo qui nella cartella esempi console.log andiamo a capo così ci ricordiamo ok questo si esegue solo una volta non so se facciamo prima scriverlo ma non importa questo qui questo chiude la callback e questo invece ce lo mandiamo a capo e questo return è il nostro componente e questa è la fine del componente e quindi qui andiamo a scrivere count l'u vuole una props cosa conta? Conta un numero quindi vuole una props che si chiama num che possiamo passare num adesso andiamo a definirlo e e basta e poi mettiamo un bottone per cambiare questo numero che ho un click e da questo numero facciamo uno stato const num set num poi importiamo use state ovviamente use state 5 e on click set num e facciamo set num e facciamo che il numero lo incrementiamo di 1 e in questo bottone lo facciamo più e chiudiamo il bottone sì ovviamente non qui ma qui fuori ok e poi importiamo sia use state che use effect from react ok quindi ho fatto copia ancora del codice per questo cosa fa questo componente questo componente renderizza a schermo un numero in questo caso il numero 5 che viene passato dalla props che abbiamo settato qua e poi renderizza un bottone che ogni volta che premiamo aumenta il numero e quindi senza questo use effects lui ovviamente funziona tutte le volte che premiamo il bottone diventa 6 diventa 7 diventa 8 diventa 9 tutte le volte aumenta e se facciamo il refresh riparte da 5 esattamente come capitava per esempio con i nostri esami o con i nostri task cosa fa use effects use effects in questo caso fa due due effetti due side effects che sono semplici perché sono del console.log quindi apriamo il console.log dove vedete dice la prima volta quando il componente viene montato stampo il mio numero statico è il numero 5 6 quello che è in questo caso è 5 e poi ogni volta che il numero cambia quindi che questa props cambia perché abbiamo imprimuto il bottone quindi questa props sta cambiando per esempio stampo il mio numero dinamico è il numero che ci sarà quindi se io faccio il refresh vedete che lui mi stampa il mio numero statico è 5 il mio numero dinamico è 5 perché questo viene eseguito a ogni cambiamento è la prima volta che arriva la props viene eseguito se io adesso premo 5 premo il più vedete che adesso magari è un po' piccolo ma vedete che c'è scritto my dynamic number 6 7 8 9 10 ogni volta che premo visualizzo solo questo questo console.log non visualizzo questo qui perché ovviamente questo viene eseguito solo in fase di mounting se io faccio il refresh mi compare il mio numero statico è 5 il mio numero dinamico è 5 e ovviamente riparto da capo quindi questo stiamo dicendo tutti questi eventi che vengono fatte dopo che questo 5 questo bottone viene messo nel DOM all'interno del browser dopo a quel punto attaccaci questi considera gestisci questi side effects in diversi momenti appunto nel primo caso quando creo il componente nel secondo caso ogni volta che premo che questo questa props cambia e in questo caso questa props cambia perché cambia questo stato allora qual è la timeline di quello che abbiamo visto cosa succede in React nel ciclo di vita di React succede che il componente count viene creato con il numero 5 nel nostro caso non 3 qui probabilmente c'era 3 come esempio di partenza e viene fatto il mounting in app perché abbiamo messo il componente dentro app a quel punto la funzione count questa è chiamata questi effetti vengono registrati React sa che ne ha 2 da dover gestire in momenti diversi ma non eseguiti solo registrati a quel punto questo GSX il retor viene elaborato ritornato con scritto 3 con scritto 5 con scritto i valori di default di partenza viene inserito nel DOM a questo punto il componente viene montato e React va a dire ci sono degli effetti collaterali che devo considerare sì questo che deve essere eseguito parentesi vuote in fase di mounting e questo che deve essere eseguito a ogni cambiamento quindi anche la prima volta perché passa da in un certo senso da nulla a 3 o 5 il valore iniziale e quindi viene eseguito sia questo con solo.long che questo con solo.log con my dynamic number quando l'utente clicca sul bottone cosa succede? che io clicco aggiorno uno stato un aggiornamento di stato e aggiorno stato da 3 a 4 da 5 a 6 quindi cambio il valore del numero un aggiornamento di stato scatena un re-rendering sempre come il solito quindi riparsifica questo GSX ritorna questo div con dentro il numero e React dice ci sono degli effetti che devo far eseguire il primo no perché è solo in fase di mounting il secondo guarda caso sta a guardare se è cambiato num num è cambiato sì perché è aumentato di 1 e quindi eseguo il codice in questa callback e quindi eseguo di nuovo il codice se io ripremo succede la stessa cosa cambio lo stato il cambiamento del stato ritriggera il re-rendering di questo che ritorna il GSX di questo che inserisce il risultato dell'operazione nel DOM del browser che fa scatenare il secondo use effect tutto questo per fare console.log ma lo facciamo controllato da React perché se no non abbiamo controllo di quando quello potrebbe capitare e nel caso del console.log ripeto non è un grosso problema perché al massimo non stampa schermo o non stampa nella console lo stampa due volte o lo stampa cinque volte o lo stampa quando non ce lo aspettiamo a un certo punto lo stampa però un console.log probabilmente possiamo sopravvivere anche senza se è un qualcosa di un pochino più sostanzioso come per esempio la fetch ovviamente vogliamo che venga eseguito magari solo una volta e solo nel momento giusto e che all'esecuzione di quello succeda un qualcosa in maniera controllata non a caso per cui se facciamo una fetch solo in fase di mounting quindi così con le parentesi quadre vogliamo che quella fetch avvenga solo all'inizio e magari prendiamo i risultati della fetch e cambiamo lo stato che scatena un re-rendering del componente di nuovo ma non lo scatena in un certo ordine specifico e in maniera controllata da noi che sappiamo cosa sta succedendo non vogliamo per esempio che il che la fetch avvenga due minuti dopo rispetto a quello che rende il componente quindi l'applicazione rimanga ferma per nessun motivo che avvenga cinque volte o che avvenga a caso perché non vogliamo vogliamo avere controllo su quelle operazioni su questi side effects ma senza ovviamente distruggere React senza distruggere la nostra applicazione inserendoci nel ciclo di vita di React in maniera corretta ovviamente noi adesso abbiamo visto ad esempio quella props che veniva cambiata dallo stato ma noi possiamo usare una props una dipendenza nell'array che può essere lo stato direttamente possiamo dire quando lo stato cambia scatena un effetto allora in quel caso cosa succede? che quando lo stato cambia se viene usato come dipendenza di un effetto ovviamente avviene il re-rendering del componente il componente viene re-renderizzato eventualmente nel DOM se ci sono stati cambiamenti significativi e a quel punto l'effetto se lo stato è cambiato abbiamo una dipendenza tra l'effetto e lo stato l'effetto è eseguito come nel caso che abbiamo visto se lo stato fosse aggiornato ma il suo valore comunque non cambiasse quindi abbiamo un effetto su il numero sullo stato numero non sulla props numero come nell'esempio di prima e la props numero rimane 3 perché io la cambio non dal più ma da un'etichetta di testo e scrivo 3 di nuovo e premo in bio lo stato è cambiato per React quindi React farà un nuovo re-rendering ovviamente ma in quel caso useEffect non verrà eseguito perché si accorge che lo stato sarà pure aggiornato ma il valore all'interno dello stato non lo è e quindi non riscatena soprattutto in fase di sviluppo in fase di produzione un nuovo re-rendering un nuovo side effects perché ovviamente non ha niente da fare in quanto è già 3 quello stato questo se lo usiamo come dipendenza se invece vogliamo come per esempio nella fetch come capiterà nella fetch far sì che all'interno di un useEffect cambiamo lo stato riceviamo l'elenco degli esami e aggiorniamo lo stato degli esami riceviamo l'elenco dei task e cambiamo lo stato che contiene tutti i task per visualizzarli questo si può fare e ovviamente cosa succederà? succederà che il componente verrà renderizzato con lo stato di partenza che magari sarà vuoto perché se premiamo i dati per la prima volta dalla fetch sarà all'inizio vuoto dopo che è stato renderizzato verrà chiamato useEffect che chiamerà la fetch in maniera sincrona che tornerà la fetch che cambierà lo stato a quel punto cambiando lo stato React rirenderizzerà il componente quindi per esempio riempirà la tabella del con i nostri task con i nostri task questo questo è la parte che capita normalmente questo però ha un effetto nella nostra applicazione che la nostra applicazione quando parte per esempio immaginiamo in questo caso dei task avrà una tabella vuota perché dovrà aspettare che queste informazioni arrivino da server e sarà vuota per un po' magari un po' corto magari un po' lungo questo dipende da quello che ci mette il useEffect quello che ci mette il fetch a ritornare alle informazioni ma in ogni caso sarà vuota perché? perché il fetch verrà eseguito dopo nello useEffect verrà eseguito dopo che il componente sarà stato inserito nel DOM quindi noi nel browser vedremo comunque la nostra tabella finita di renderizzare che colori giusti quello che vorremmo ma semplicemente vuota perché non avremo niente da metterci dentro in quanto lo stato non è ancora stato aggiornato dalla fetch e quindi dovremo gestire questa fase di loading in qualche modo e qui c'è un altro esempio questa volta non con solo .log ma con il timeout in cui andiamo a cambiare lo stato allora proviamo anche a fare questo poi guardiamo la timeline ma penso che ormai dovrebbe essere abbastanza chiaro auspicabilmente come funziona quindi adesso ho fatto di nuovo copia e incolla e verrà come prima una roba che devo aggiornare ma allora questa è la callback questo è set timeout questo questo qui e questo deve andare a capo e questo deve andare a capo e questo è il return vabbè così più o meno questa è la funzione quindi cosa fa questa funzione? questa funzione imposta uno stato aperto e set open che inizialmente ha false e poi renderizza un bottone un div che al click chiama una funzione che si chiama open me che semplicemente set open a true e se open e true fa vedere un bottone fa vedere go altrimenti fa vedere stop e poi chiude il div poi ha un set effects che cambia quando cambia lo stato quindi open e quindi verrà eseguito all'inizio quando viene renderizzato per una volta e poi quando c'è open e in quel caso lancia un set timeout che verrà lanciato dopo che tutto viene renderizzato nel DOM che metterà open a falso dopo mezzo secondo e quindi quando open è falso questo componente poi dovrà rirenderizzarsi e far vedere stop quindi andiamo a metterlo qui sotto come si chiama quickgate basta quickgate perché non ha props in realtà non ha props che passa perché cambiamo lo stato del componente allora vedete che adesso è comparso questa stringa stop fatemi vabbè non importa è comparsa questa stringa stop perché lo stato è falso quindi quando io clicco vedete che torna stop dopo un po' lo rifaccio magari a un momento un attimino lo zoom io premo stop va a go e poi torna stop io premo stop lui sta a mezzo seconda a go e poi torna stop quindi cosa succede? succede che quando il componente viene creato lo stato viene messo a falso dato che questo è falso questo viene visualizzato come stop quando io premo qui perché faccio questo un click metto lo stato a true e quindi il componente viene rirenderizzato con go perché open è diventato true ma quando cambia open viene anche fatto partire questo effetto che lancia un timeout che lancia un timeout che dopo un mezzo secondo rimette lo stato a falso a quel punto dato che lo stato è messo a falso il componente si rirenderizza perché è cambiato lo stato il componente si rirenderizza e quindi rimette il bottone a stop vedo che qualcuno sta scrivendo in chat quindi no se lo stato è iniziale possiamo farlo guarda così proviamo ma mettiamo lo stato iniziale a true vedi che l'effetto avviene anche l'effetto avviene sempre a primo stato perché abbiamo detto prima questo comunque avviene anche in fase di mounting ovviamente sarebbe avvenuto facciamo un po' più lungo di di 500 così si vede vedi va a go poi dopo un secondo circa va a stop perché come ho detto prima questo capita in fase di mounting e quando la prima volta in fase di mounting e quando il valore dello stato cambia però dopo che ho renderizzato il componente ovviamente nel browser che è la parte poi essenziale avviene dopo tutta quella fase adesso guardiamo anche la timeline che vi ho raccontato che è scritta nella slide la user fact che cambia lo stato che sta osservando non dovrebbe generare una serie di chiamate a catena nello stesso no perché cambia il valore controlla non se lo stato è cambiato ma se il valore dello stato è cambiato quindi lui ovviamente lo mette a false quindi quando clicco lo metto a true lui si accorge che è cambiato perché siamo passati da false a true quindi viene eseguito perché c'è stato un cambiamento nello stato ma non solo nello stato nel valore viene eseguito viene messo a false quindi questo passa da viene messo a false quindi questo è cambiato perché passa da true a false però una volta dopo questo viene da false viene rimesso a false e quindi questo effetto non viene lanciato perché è il valore dello stato che viene cambiato quindi non all'infinito sì c'è solo una chiamata in più buona domanda come mai ci dà un warning di missing dependency anche se è il comportamento che vogliamo ecco perché ce lo dà su su count qui perché giordà riga 7 aspetta fatemi vedere quale riga 7 qua ce lo dà su questo ce lo dà su questo perché react soprattutto in fase di sviluppo si porta sulla parte della precauzione dice attenzione stai usando all'interno di un effetto un qualcosa che cambia il rendering perché una props può cambiare il rendering se è proprio sicuro che non vuoi che questo effetto venga eseguito anche quando cambi questo perché è buona norma se qui dentro c'è una props o uno stato usare questo metodo qua questa seconda versione quella con non è buona norma bisogna quando si si mette qui dentro una variabile una props o uno stato indicare quella variabile nella regia di dipendenze quindi react non sa in realtà se questa è una props se questo è uno stato se questa è una variabile che abbiamo definito qui const prova non lo sa e quindi qualunque cosa che usiamo qui dentro che è una variabile ci lancia questo warning per farci per far fare attenzione allo sviluppatore che è proprio sicuro che vuoi usare quello use effect in questo modo occhio che se tu stai cambiando una props dall'interno use effects o stai cambiando lo stato dovresti indicarlo qui ora qui noi siamo consapevoli che vogliamo fare esattamente così e quindi possiamo ignorare il warning però lui ce lo segnala tutte le volte ripeto anche se qui ci fosse stato scritto prova quindi non una props non uno stato quindi anche un qualcosa che non rirenderizza il componente e lui non lo sa lui vede una variabile e dice dovesse indicarla lì ok e qui vediamo la timeline di quello che abbiamo appena detto quindi il componente quickgate è creato e montato nell'app la funzione del componente chiamata questa che abbiamo appena fatto use state crea lo stato open con un valore di default a false use effect è registrato questa callback è registrata non chiamata gsx è ritornato viene inserito nel DOM con scritto stop dato che il componente è appena stato montato l'effetto viene eseguito perché c'è una dipendenza anche se fosse vuoto comunque c'è l'array quindi il componente viene eseguito la prima volta il set amount è lanciato e ovviamente dato che è false a false non vediamo nessuna differenza ma viene annunciato lo stesso e dopo il mezzo secondo appunto questo è a false viene rimesso a false dato che passiamo da false a false non c'è cambiamento nel valore e quindi semplicemente non viene richiamato un'altra volta il set effect l'utente clicca su stop che non dovrebbe essere un div dovrebbe essere un link ma non facciamo finta di niente o questo e questo dovrebbe essere un link l'utente clicca su stop e cosa succede questa callback viene chiamata lo stato viene cambiato lo stato viene cambiato il valore dello stato anche viene cambiato e quindi dato che c'è una dipendenza su open no niente lo stato viene cambiato a true il componente viene rirenderizzato con go quando arriva nel dom lo stato l'use effect si accorge che lo stato era è cambiato da forza true e quindi questo viene lanciato e del comportamento che abbiamo visto per cui sono passati da go e dopo mezzo secondo ritorniamo a stop quindi il time out appunto scade dopo mezzo secondo circa torniamo a a falso il componente dato che lo stato è cambiato fa il rirendering e quindi visualizza stop a questo punto viene visualizzato il gsx use effect trova quello che dicevamo prima con Tommaso trova open cambiato perché è passato davvero a falso l'ha fatto passare lui ma è passato davvero a falso quindi questo è open cambiato riscatena un altro time out che passa da falso a falso e poi siccome passiamo da falso a falso questo non viene reeseguito un'altra volta perché il valore dello stato non è cambiato questo vale per valore dello stato ma vale anche per valore della props il valore di quello che è indicato qui dentro se cambia ma non cambia il valore non viene richiamata la 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 use effect ecco qui ci sono alcuni punti d'attenzione quindi fare attenzione in parte collegato a quello che chiedeva Riccardo in chat fare attenzione è che l'array includa tutti i valori dello scope dal componente dello scope come il props e lo stato che cambiano nel time che cambiano nel tempo e che possono cambiare nel tempo e che sono utilizzati dall'effetto react in ogni caso comunque lo segnalano warning altrimenti se non viene indicato come componente il codice potrebbe referenziarsi potrebbe fare riferimento il codice di use effects potrebbe fare riferimenti a rendering precedenti quindi a valori passati di quella variabile di stato di props che stiamo passando per cui appunto react ce lo ricorda tutte le volte con questo warning anche quando è il comportamento che vogliamo proprio perché è un punto d'attenzione se no rischiamo di utilizzare un valore vecchio quindi come regola ogni valore che viene utilizzato all'interno di un effetto dovrebbe apparire nel array delle dipendenze poi ci sono casi come quello in cui l'esempio in cui non ci interessa però bisogna fare perché andiamo solo a leggerlo ed è magari un console.log quindi però lì c'è il rischio che se non è passato che appunto accediamo al valore precedente ma se quello è un valore che nessuno cambia perché per esempio il mounting quindi ci serve solo la prima fase è ovviamente un valore che nessuno cambia prima perché non esiste un componente prima per cui prima di quella rendering lì quindi non c'è non c'è un grosso problema però come regola è sempre bene mettere come dipendenza quello che viene utilizzato all'interno del del valore all'interno della use of x della callback di use of x ovviamente e questo in parte risponde anche alla domanda di Tommaso quantomeno è collegata se l'array include variabili che cambiano sempre valore quindi io l'ho stato open tutte le volte la set timeout fa l'inverse di open quindi se è true diventa false se false diventa true eccetera eccetera lì vado in un infinite loop quello sì nel nostro caso non succedeva perché mettevamo sempre false quindi da forse a forse non veniva scatenato lo user first se invece quel timeout fosse punto esclamativo open tutte le volte andavamo a richiamare quella roba all'infinito e non finivamo più perché appunto lo chiamavamo in un loop infinito perché cambiavamo in continuazione lo stato quindi attenzione molto potente user effects perché permette di fare tantissime cose però bisogna come tante cose in javascript avere attenzione su quello che si fa ecco come lo usiamo con la fetch perché alla fine è difficile che useremo user effects per fare un console punto log o magari per un timeout sì ma per un console punto log è improbabile anche perché è qualcosa che magari ci serve solo in fase di sviluppo per capire se sta funzionando qualcosa non tanto per avere valori referenziati da rendering precedente o da rendering attuale ma per la fetch è sicuramente utile quindi qui c'è un esempio qui c'è un esempio che prende un componente che si chiama fetch employees by query prende una query che viene passato e c'è questo user effects che fa una fetch vedete fa una fetch ha un indirizzo in questo caso locale al server employees punto di domanda q uguale la query che viene passata come props e vedete fa una fetch fa una response json e poi chiama un set employees che cambia lo stato che sarà quello che suppongo verrà che viene poi renderizzato qui dal componente e quindi cosa succede in questo caso se vogliamo ripetere la timeline di prima questo componente viene renderizzato nel dom comparirà un array vuoto perché vedete che qui è messa vuoto inizializzata vuoto quindi comparirà una tabella una serie di div un div vuoto essenzialmente perché map su un array vuoto non torna probabilmente niente quindi o un div vuoto o niente pagina bianca finito il rendering messo il div nel creata app diciamo dentro la pagina bianca della pagina del browser nel dom viene chiamato userfx viene chiamato il fetch quindi viene fatto il fetch a questo indirizzo viene messo il risultato nella response con una wait si parsifica il json della risposta viene messo in questa variabile quando è disponibile e questa variabile poi va a chiamare un set state che aggiorna ovviamente lo stato employees a quel punto react dato che ha cambiato lo stato fa un re-rendering e quindi re-renderizza questo poi se la query non è cambiata se la variabile query che è passata qui come props non è cambiata allora a quel punto questo effetto non viene più richiamato se invece fosse cambiata ovviamente arriverebbe chiamato un'altra volta il fetch per per rifare per riempire la tabella dopo che la tabella è ovviamente stata renderizzata a schermo nel browser ecco notate una cosa qui che questo che noi abbiamo definito una funzione e poi l'abbiamo chiamata all'interno di useEffect e non abbiamo scritto qui async che ci avrebbe evitato di scrivere di definire una funzione e poi chiamarla questo perché non possiamo scrivere qui async è sbagliato dovrebbe darci errore scriviamo lì async perché la callback useFX può tornare due cose niente o una funzione pura se noi mettiamo async davanti alla callback la callback cosa torna? non niente e non una funzione pura una promise e quindi non va bene semplicemente non possiamo perché quella callback deve tornare o niente o una funzione pura e quindi se vogliamo usare async e await dobbiamo creare dobbiamo creare una funzione che racchiuda la sync e poi chiamare la funzione o così o con una ife come volete anche quello si può fare quindi una funzione anonima che venga chiamata subito questo l'ha ben detto essenzialmente e qui c'è un altro esempio un pochino più complesso che adesso andiamo a fare però è sempre sullo stesso genere un po' più complesso perché facciamo un esempio col fetch però fatemi aggiungere fatemi andare avanti poi torniamo indietro sull'esempio se ce la facciamo ovviamente col fetch siamo in uno stato in cui io faccio una richiesta ma prima di riempire la tabella dei dipendenti la tabella dei task eccetera sono in uno stato in cui la tabella è vuota perché il fetch avviene dopo che la pagina web si è renderizzata nel browser e allora quello che si fa sempre soprattutto se le chiamate http sono lente ma ha senso farlo sempre perché non sappiamo quanto ci metteranno le chiamate http e creare un nuovo stato per esempio che si chiama waiting che si chiama loading eccetera e gestire quello stato anche nello usefx e nel rendering cioè quello che vogliamo fare è se devo fare una fetch e non so cosa visualizzare perché non ho i dati da visualizzare faccio comparire a schermo sto caricando invece di una tabella vuota o di una pagina vuota così l'utente che usa la nostra applicazione graphic e la nostra applicazione web sa che sta aspettando dei nuovi dati non è piantato tutto lì non c'è un errore sta aspettando è giusto e funziona tutto deve solo aspettare un attimo e quindi questo come lo gestiamo lo gestiamo che prima che la fetch venga chiamata lo mettiamo a true in modo che il default parta con sto aspettando e quando la fetch quando la risposta è stata passificata mettiamo questo loading questo waiting a falso in questo modo il cambiamento dello stato di un componente scatena il re-rendering del componente stesso e quindi mi farebbe sparire e lo sto aspettando e me lo sostituerebbe immediatamente con i dati ricevuti dalla fetch questo è un trucchettino per stare dietro a questi ritardi che per esempio la fetch porta perché viene chiamata solo dopo che il rendering nella pagina è stato completato alcuni effetti possono richiedere una clean up una pulizia per esempio se ho dei timer che vengono scattati ogni 5 secondi quando il componente viene distrutto vorrei poter dire ok adesso non continuare a chiamarmi il timer perché non mi serve il componente è stato distrutto oppure ho aperto un socket e voglio chiuderlo perché non serve più perché il componente è stato distrutto noi per ora abbiamo sempre visto che SideFX usava una callback ma come vi ho detto SideFX la callback di SideFX può tornare o niente o una funzione pura ecco nel caso in cui torni una funzione come in questo caso questa funzione si chiama un effetto di clean up è una funzione che viene chiamata in fase di tipicamente un mounting in fase di completamento della callback per esempio per chiudere un socket per chiudere per pulire un timer e quant'altro e funziona e funziona così dopo un rendering iniziale c'è scritto qui al lato nella slide useEffect chiama la callback e la funzione di clean up non viene chiamata a un rendering successivo prima di chiamare la nuova callback viene chiamata la funzione di clean up quindi nel primo caso facciamo finta del timer impostiamo un timer che scatta nei 5 secondi ogni mezzo secondo su un cambiamento di una props appena viene renderizzato fa partire questo timer che scatta ogni mezzo secondo e fa qualcosa ogni mezzo secondo al rendering successivo questo timer prima di venire riscatenato con un nuovo valore viene stoppato dalla funzione di clean up e poi viene rieseguito immediatamente dopo e questa funzione di clean up viene poi anche rieseguita in modo da ripartire ad uno stato pulito in un certo senso con i side effects e ovviamente anche quando in fase di unmounting la funzione di clean up viene chiamata sempre in ogni caso comunque in modo che qualunque processo che sia pendente venga pendente in base ad un side effects venga eventualmente interrotto dalla funzione di clean up qui c'è un sommario sui quattro modi di usare use effects quando il componente fa il mounting con un array vuoto quando ogni volta che il componente si renderizza senza array e ogni volta che il componente si renderizza se alcuni valori si cambiano con l'array con nenti valori che cambiano e quando il componente fa l'unmount più la parte di clean up che abbiamo appena detto ritornando una funzione ci sono poi altre situazioni del ciclo di vita che si possono intercettare ma sono cose più particolari sono indicate qui e in generale in React non è raccomandato usarlo si possono usare per cose molto molto particolari per cui è giusto citarle in questo slide ma quando possibile è meglio evitare di andare a pasticciare troppo col DOM in maniera sincrona e lasciare a fare React il suo lavoro di renderizzare tutto in maniera corretta solo l'ultima cosa poi vediamo l'esempio e questo poi torniamo sullo stato ma a un certo punto noi mettendo insieme Express e React avremo due stati avremo lo stato di Express che ci dice non lo so i nostri task ed è uno stato che può essere cambiato perché ovviamente ci possono essere vari browser che vanno a cambiare le informazioni in quel database l'applicazione web ma anche un'applicazione mobile va a cambiare la stessa sorgente di dati e poi c'è lo stato di React quello che vediamo sullo schermo della singola sessione che usiamo con UseState e questo lo riprendiamo perché finisce qui vedete qui c'è questa slide che voi non avete da qui in poi giovedì 20 nel senso che lo riprendiamo alla settimana prossima perché sono aspetti un po' più avanzati però quello che volevo dirvi perché vi può servire per il Big Lab di lunedì è dove mettiamo l'API della fetch le mettiamo direttamente in userfx come nell'esempio o le mettiamo a parte le mettiamo a parte è sempre bene mettere i metodi di fetch in un modulo separato per esempio api.json e dalla fetch e dalla userfx andare a dire ok modulo api.json punto get exams e questo get exams farà poi a sua volta la fetch in questo modo è per esempio facile se noi non abbiamo il server pronto ma possiamo fare dei metodi finti in questo api.js e quindi simulare tutto il comportamento degli userfx senza nessun problema inoltre manteniamo i dettagli dei metodi HTTP all'interno di questo modulo api in modo che se cambiasse l'indirizzo in modo che se cambiasse l'oggetto json da mandare in modo che se cambiasse qualunque cosa react l'applicazione react per la parte di rendering non venisse non viene toccata in nessun modo ma rimane tutto separato e pulito ok fatemi tornare indietro e proviamo a iniziare poi al massimo lo finisco io questo esempio questo esempio cosa fa usa use effect qua con la fetch quindi ci serve sono due file flip client flip server che dobbiamo abilitare come proxy tra l'altro per fare questo quando io scrivo un testo mi ritorna il testo invertito e questo mi ritorna è il server che me lo ritorna allora fatemelo copiare incollare perché non abbiamo tempo di farlo da zero quindi poi sarebbe bello che anzi fatemelo sì va bene da qui quindi questo lo chiudiamo e apriamo l'altra cartella e allora prima di tutto andiamo in flip client e abilitiamo il proxy quindi qui scriviamo proxy nel package json dell'applicazione react http localhost 2.3001 che sarà il nostro il nostro server express poi qui in flip client andiamo a cancellare questo il retorno va bene questo qui e andiamo poi lo sistema importiamo useEffect creiamo questa funzione textFlipper che usa useEffect che chiama la fetch che fa tutto quello che la fetch è supposto di fare ok 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 poi far return del componente di un div con questa roba qui ok spero spero e poi chiudiamo il componente e poi in app quindi qui è tutto in app questo riceve delle props no non mi sembra in app andiamo a scrivere non c'è in app andiamo a scrivere semplicemente textFlipper tanto non ha props quindi questo si può cancellare e questa fa la fetch a un indirizzo flip potremmo mettere anche API flip così qui non c'è problema ma perché tanto è un'unica cosa ma potremmo mettere questo a questo punto andiamo nel server e andiamo a mettere questo codice qui questo ovviamente c'è già questo è quello che ci fa la conversione del testo ci cambia il testo così ci flippa il testo quindi qua facciamo in non in esempi ma in flip server installiamo questo modulo che si chiama questa get risponderà via net su API flip flip server e installiamo npm install come vi ho detto che si chiama const flip uguale si si chiama flip text quindi require flip text salviamo e installiamo questo flip text che ci fa questo lavoro di flipping dei caratteri in quel modo ok a questo punto lanciamo il server si ok lanciamo il server e lanciamo visto che abbiamo abilitato il proxy apriamo un altro terminale qui e andiamo nella cartella flip client e facciamo npm start e se ne abbiamo fatto pasticci nel copy incolla dovrebbe funzionare quindi proviamo a scrivere ciao e vedete che immediatamente ritorna il carattere al contrario che viene restituito da questo da questo dal server da questo pacchetto no jss del server e vedete che anche il proxy ovviamente funziona se no non avremmo questa richiesta cosa fa questo perché poi la parte interessante è questa al netto del fatto che ritorni la stringa ciao normale o non normale e fa una fetch a quell'indirizzo a cui viene restituito questo ciao scritto al contrario dovrebbe controllare se la response ok eccetera e non dovrebbe essere qui ma dovrebbe essere nel file api.javascript abbiamo detto prende il json dalla risposta e aspetta che sia pronto lo mette in response body e a quel punto cambia lo stato col testo che è contenuto dentro il response body perché probabilmente di là ritornavamo all'interno del json un campo che si chiama text a quel punto chiama il fetch flipped quindi chiama questa funzione che ho appena definito con con il testo che ho inserito in questo in questo campo di input perché questo campo di input è come un form quindi ha value text che sull'on change chiama l'endol change che semplicemente fa self text quindi ogni volta che scrivo una lettera dato che questo è già nel DOM ogni volta che scrivo una lettera cambia un qualcosa viene cambiato lo stato ma dato che viene cambiato lo stato viene chiamato use effect e dato che viene chiamato use effect viene fatta la fetch a questo a questo indirizzo e ogni volta che viene fatta la fetch cambio set flipped che viene visualizzato qui quindi cambio un altro stato che viene visualizzato qui sotto ovviamente se questo se questa fetch fosse lunghissima a ritornare nel momento in cui scrivo c non mi tornerebbe immediatamente il c al contrario ma passerebbe il tempo necessario prima a far tornare la c e poi il processo è sempre quello di prima quindi viene renderizzato il componente quindi all'inizio viene renderizzato quel valore di default la prima volta viene chiamato questo col testo ma il testo è vuoto quindi il controllo del vuoto è niente e rimane vuoto e la seconda volta appena inizio a scrivere qualcosa viene richiamato questa funzione che fa la fetch e fa il parsing del JSON e ritorna il testo che poi va scritto in questo campo flip ma tutto questo avviene dopo ovviamente che il componente è già renderizzato che in questo problema in questo momento è in realtà quello che vogliamo e non è un problema non è un problema per niente perché noi ovviamente andiamo già a manipolare sulla versione DOM renderizzata nel browser ok? allora questo poi questo esempio vi ricarico ma l'avete anche nelle slide quindi potete se volete giocarci ancora un po' questo chiude la parte per oggi su use effects continueremo giovedì prossimo con aspetti un po' più avanzati di questo per esempio per gestire meglio il loading nel laboratorio di lunedì voi avrete da inserire la fetch nella vostra applicazione React e quindi usando use effects in maniera simile come abbiamo visto fatto adesso e probabilmente anche manipolando lo stato perché richiederete un nuovo insieme di task al server che verrà poi renderizzato nella tabella non preoccupatevi per ora se la tabella rimarrà vuota all'inizio nel frattempo che la fetch ritornerà qualcosa in realtà essendo sullo stesso server sarà tutto abbastanza veloce però anche se per un attimo rimanesse tutto vuoto prima di renderizzarsi sapete che bisognerebbe gestirlo in maniera simile a questo non so più dov'è a questo handling slow responses però poi avremo tempo la settimana prossima di andare un pochino quindi nel dettaglio di questi passaggi di eventuali fetch multipli sincroni con dipendenze non con dipendenze tra cui anche meglio probabilmente questa parte del loading del waiting eccetera e anche come comportarci cosa mettere come fare a fare il rendering eccetera al di là di questo semplice esempio che c'è qui che potete provare anche incollare dato che questo è sul flip nel progetto che aggiungere queste righe nel progetto e vedere cosa succede in caso in cui il server risponda un pochino più tardi magari riuscite già a vedere per un attimo questo orologio comparire prima che sparisca subito se siete sullo stesso computer sono le 11.31 quindi io fermo la registrazione se nel frattempo qualcuna domanda scrivete pure in chat altrimenti vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana grazie a tutti